C'è una domanda dritta per lei. Ieri lei al quotidiano La Verità ha pubblicato una sua intervista nella quale lei ha fatto una proposta davvero curiosa, oserei dire suggestiva, in cui dice non mi fido di questo comitato tecnico scientifico, facciamolo eleggere dal Parlamento, ma mica è il consiglio d'amministrazione della RAI, cioè non è che possiamo mettere in quota il virologo del PD e il virologo della Lega. Lei è un po' sfuggita di mano questa proposta forse, o che cosa intendeva? No, ci sono tanti medici che dicono cose diverse rispetto ai due o tre che vanno sempre in televisione. Ma ho capito, ma che vuol dire? Penso al professor Palupe, penso al professor Bassetti, vuol dire che bisogna ascoltare tutti i primari, tutti i medici, tutti i virologi. Se qualcuno dice che la cura a casa è più efficace, perfetto, se lo dice anche Sileri vuol dire che non è una questione della Lega. Se lo stesso viceministro della Salute dei Cinque Stelle dice che così come funziona non va e si va al disastro, se non vogliono ascoltare me ascoltino lui. Lascio la piazza ai legittimi proprietari che sono gli chef, i ristoratori, i baristi, i camerieri e il milione di italiani che vedono il loro proprio lavoro a rischio. Allora torniamo tra pochissimo, grazie Ludovica Ciriello per questo flash di Salvini.